Si chiama Jennifer King, a 50 anni d'età, viene dal North Carolina negli Stati Uniti d'America, è famosa per i miei suoi filmati sul training e per il tenersi in forma. Avrebbe sfilato il giardino in un grazioso e microscopico bikini, ma uno particolare non sarebbe sfuggito. Infatti la bellissima donna, prosperosa, alta e dalle forme jononiche, ma anche in tacchi a spillo, avrebbe deciso di sfilare nel giardino ancora una bikini che in realtà non era altro che una pittura. In pratica la ragazza, o meglio la donna, di 50 anni era nuda. L'effetto è svalorditivo, il colore unito perfettamente alla pelle aderisce in modo completo, tanto che l'opera in questione, che è del suo compagno attuale, che fa il pittore di mestiere, riesce ad essere veramente ben apprezzata. Roma ha deciso di dipingere, nel senso più stretto del termine, all'esterno del corpo di questa bellissima donna, la sua, per l'appunto, questo bikini, riuscendo veramente a far impazzire a tutti e a far credere a tutti che si tratti, per l'appunto, di questo indumento intimo e di grande bellezza. In questo modo ha reso perfettamente calzante la bellezza della donna in questione. Una donna diare una bellezza semplice, rigogliosa, ma al tempo stesso estremamente piacevole da apprezzare e da essere apprezzata. Iscrivetevi, commentate, un caro saluto a noi per tutti, grazie.